Si avvicinano le elezioni europee, innanzitutto ci aiuta a fare chiarezza nel Movimento 5 Stelle cosa pensa sull'uscita dall'euro e dall'Europa e cosa ne pensa Carla Franchini? La forza politica a cui appartengo vuole rimanere in Europa, semplicemente vuole cambiare questa Europa. Questa Europa è una signorina Rothmeier, noi vogliamo un'Europa che si avvicina ai bisogni delle persone. L'alternativa, l'uscita dall'euro, l'uscita dall'Europa, queste sono battaglie che fanno presa al momento ma la verità è una, che uno si dovrebbe porre delle domande, perché è nata l'Europa? Ma perché è nata l'Europa? Allora se uno conosce la storia se lo ricorda perché è nata l'Europa. Una delle battaglie di sempre del Movimento 5 Stelle è l'ecologia, l'ambiente, quale istante porterà in questo senso nel loro Parlamento eventualmente? Per noi l'ambiente è assolutamente prioritario perché l'ambiente è salute, la salute è, non credo che esista qualcosa di più importante della salute. In Romagna l'ambiente vuol dire soprattutto mare, in che modo lo difenderà eventualmente in Europa? Farò in modo che il mare possa rimanere uno dei patrimoni italiani e il mare, il mare dell'Italia deve rimanere agli italiani e noi dobbiamo fare in modo che si possa avere, estendere la tutela del mare che c'è sulle nostre coste anche nelle altre, perché chiaramente per noi è un padre di famiglia il mare, il mare è da mangiare, questo territorio, io sono romagnola.